nell'orario di lezione quindi alle otto e mezza è anche vero che con la registrazione voi potete rivedere la lezione in un secondo momento oppure potete anche non svegliarvi alle otto e mezza di mattina e vedere la lezione dopo ragazzi disattivate il radio perché sento tutti i vostri commenti oppure non parlate quindi quello che vorrei dirvi è che questa prima settimana la faremo alle otto e mezza